Ma cerchiamo Bambino Gesù, eh? Eh, lo guardi. Bambino Gesù è così, questo... Vabbè, gli facciamo fare... Che cosa? Ponzio Pilato. Quest'anno il Natale arriva prima. C'è un figlio. Vuoi far parte della sua famiglia? Vuoi sposarmi? Io questo matrimonio non lo posso celebrare. Ma certo che posso celebrare. Se fosse una truffatrice. Posso dire la mia? No, non puoi, dai! Improvvisamente a Natale mi sposo. Dal 6 dicembre solo al cinema. Grazie.